Sembrava essere in Siberia, con la neve che cadeva tutto al buio sembrava essere fuori dal mondo. 13 ore senza né corrente elettrica né telefono. Ci troviamo in Casentino, a Badia Prataglia, comune di Poppi, una delle frazioni che ha subito maggiori disagi dovuti al maltempo. Ieri sera alle 11 e mezza è andata via la luce e quindi siamo rimasti tutta la notte senza luce, in attesa che da un'ora all'altra tornasse. Poi invece stamattina siamo venuti giù con le pale, abbiamo spalato io e mio marito e quindi siamo tornati un po' indietro negli anni. Quindi abbiamo messo sulla moca, il caffè con la moca, il latte caldo, il tè. A causare il blackout alcuni rami che appesantiti dalla nevicata di ieri sono stati divelti dalle forti folate di vento e sono poi caduti sui cavi dell'elettricità, lasciando così isolata l'intera frazione. Le vie telefoniche ed elettriche sono principalmente aeree, aeree per cui la caduta dei rami ha provocato anche l'interruzione che al momento credo che sia ripristinata. Al lavoro da questa notte i vigili del fuoco, l'amministrazione comunale di Poppi e i carabinieri della stazione di Badia Prataia per riportare alla normalità la situazione. In azione anche i mezzi spalaneve. In tarda mattinata l'emergenza è rientrata con il ritorno dell'elettricità e della copertura telefonica. Una volta i vecchi non lo sapevano cos'era la corrente, si mettevano intorno al cammino, ma oggi senza corrente è tutto bloccato. Stamani non avevamo nemmeno i telefoni. Se c'era un'emergenza non si poteva nemmeno chiamare il 118 io e non si poteva nemmeno chiamare il 118.